cosa è stato il novecento la nuova ondata di giovanissimi che avanza sulla scena politica la politica vinceva su tutto questo mondo ti piace o non ti piace che c'è di male che c'è da cambiare che c'è che non va indignarsi non basta politica e vita si sono molto io come arrivo mi prende la mano ti vedo troppo poco io sto sempre molto mischiata